La GLF, l'azienda leader della tipografia di Marilena Ciancio e Lello Garofalo di Castrovillari, da alcune settimane ha convertito parte dell'attività dello stabilimento per la produzione di mascherine chirurgiche Protect 96 e le Defender 98K, mantenendo il prezzo indicato dal governo, ovvero 50 centesimi più IVA, disponibili quindi a 61 centesimi. Abbiamo deciso di riconvertire una parte dell'azienda nella produzione di mascherine, visto il particolare momento che stiamo vivendo. Ovviamente io sono molto soddisfatta di quello che abbiamo fatto finora e che continueremo a fare. Una sorta di servizio alla città che con il passare del tempo è diventato una mission aziendale. Inizialmente eravamo partiti per aiutare la comunità e quindi erano diverse, però ci siamo improvvisati e abbiamo realizzato delle mascherine per distribuirle alle forze dell'ordine, alle varie associazioni, gratuitamente. Nei giorni scorsi infatti l'arrivo di una macchina automatica per la realizzazione di mascherine chirurgiche che a pieno regime ne produrrà oltre 80.000 al giorno. Speriamo che tutto vada bene, che i nostri sacrifici vengano ricompensati per quello che abbiamo fatto. Un investimento di oltre 200.000 euro che porta alla produzione di due tipi di mascherine, oltre a quelle filtranti. Si tratta di quelle chirurgiche autorizzate dall'Istituto Superiore di Sanità. Con questo macchinario automatico abbiamo provveduto a produrre queste mascherine, che si chiamano Protec 96. Sono mascherine chirurgiche di tipo 1. Ciò significa che possono essere utilizzate da tutti gli operatori, tranne in sala operatoria. La Defender 98K, che sembra una mascherina chirurgica, però è di tipo 2. La differenza è che può essere riutilizzata fino a 10 volte e può essere anche utilizzata nelle sale operatorie. Una terza produzione che abbiamo è la Defender 90X, che è praticamente simile alla Defender 90K. Può essere anche questa riutilizzata fino a 10 volte, naturalmente è sanificata. A giorni produrrà anche le mascherine per bambini. A far visita all'azienda è il sindaco di Castrovilla, Rimimmo Lopolito, che si è complimentato con gli imprenditori per l'importante e coraggiosa scelta. In questo periodo c'è tanta polemica sulle mascherine che non si trovano a 50 centesimi. La GLF è in grado di produrne con un macchinario nuovo che è appena entrato in funzione, che hanno acquistato l'oro e diventa la 50 centesimi più IVA sul mercato. Ora al governo magari la capacità di togliere l'IVA e avere il prezzo netto, ma 50 centesimi più IVA è sicuramente una grande soddisfazione soddisfazione perché significa che gli imprenditori di Castrovilla, la GLF, sono davvero, come si suol dire, sul pezzo. Le mascherine sono già in vendita nelle farmacie e parafarmacie di Castrovillari. Noi le abbiamo acquistate come comune una parte, le stiamo già distribuendo ai cittadini di Castrovillari, ne dovremmo acquistare altre ovviamente alla GLF. Però ecco la cosa che io voglio dire, sono orgoglioso di questa capacità imprenditoriale e dico grande risorsa alla GLF e lunga vita ovviamente a questa azienda che ha avuto il grande merito di sapersi immediatamente di convertire, continuando ovviamente in quello che è il settore tradizionale, ma accogliendo la nuova sfida.